Buon salve dilaniati, bentornati su No Mamamazzo. Vi ricordate uno degli scorsi video in cui facevo un unboxing di due prodotti, uno dei quali era un fumetto di Dilan Dog che conteneva un poster e degli adesivi. Quindi vorrei anche farne la recensione, vorrei fare la recensione di molti più fumetti di Dilan Dog e di fumetti in generale. Spero un giorno di riuscire a avere il tempo di fare 30 video al giorno. Parliamo innanzitutto di questo fumetto, Dilan Dog, numero 394, Eterne Stagioni, numero della serie regolare, ok? Questo numero fa parte dei tanti numeri di quest'anno che contano il countdown all'evento Meteora. C'è una meteora che come una spada di Damocle pende sulle nostre teste, sulle teste nel mondo di Dilan Dog, che potrebbe arrivare sulla Terra e cambiare il mondo come lo conosciamo. Non so nel linguaggio di Dilan Dog questo a cosa ci porterà. Se sarà un evento metanarrativo, che quindi potrà stravolgere a livello commerciale il prodotto, o se sarà semplicemente un grosso cambiamento a livello della storia. Fatto sta che questi numeri che ci portano alla meteora sono stati alcuni belli, alcuni meno belli, alcuni non saranno mai come i primi cento numeri. Questo fumetto non lo voglio recensire solo perché ho fatto l'unboxing, ma perché è un fumetto davvero bello. Non ne leggevo uno così bello da tanto e sicuramente, dato che io sono uno che apprezza i vari Dilan Dog non per forza i primi cento, però devo dire che i due numeri prima di questo erano abbastanza bruttini. Questo davvero torna in alto, fondamentalmente. Qual è la trama di questo fumetto? Fondamentalmente con la scusa della meteora, se non c'era la meteora ci sarebbe stato qualcos'altro. Sapete che in Dilan Dog il paranormale non sempre alla fine viene spiegato, è solo un mezzo funzionale alla trama. In questo caso la meteora condiziona molto il meteo e c'è un cambio velocissimo nelle stagioni, quindi si parla proprio di giorni, addirittura ore, che cambiano tra l'estate, la primavera, l'autunno e l'inverno. E in inverno succede qualcosa alla popolazione, c'è un coprifuoco che non li fa uscire nelle ore invernali. Non si sa bene cosa succede, si sa che spesso alcune persone spariscono e Dilan Dog si incuriosisce, vuole capire che cosa sta realmente succedendo, pensa che ci sia sotto la polizia che vuole nascondere qualcosa. Si scoprirà che nelle ore d'inverno le persone, le persone normali, ok ricordatevi, perché nei fumetti di Dilan Dog gioca molto il ruolo della persona normale contro il mostro, contro il freak, ok, in inverno le persone normali impazziscono e si comportano come le persone matte, pericolose. Quindi magari aggrediscono le altre persone, aggrediscono magari la polizia, che comunque non può uscire perché rischia anche lei di impazzire. Penso che possono uscire con delle maschere antigas, ma comunque è rischioso. E quindi c'è questa paura enorme dell'uscire in strada nelle ore invernali. Cosa succede però? C'è qualcosa di strano comunque, perché ovviamente questo qualcosa di strano è rappresentato da una donna, una donna che incontra Dilan, che si occupa di Dilan nelle ore invernali, quando cerca di uscire per capire cosa succede, viene portata all'interno da questa donna che riesce a stare all'esterno senza impazzire. E ovviamente Dilan, che vuoi che succeda, se ne innamora, si innamora di questa ragazza, anche questa ragazza si innamora di lui, però si sa, le storie di Dilan Dog durano più o meno come un gatto in tangenziale, e anche qui c'è qualcosa che rovina l'idiglio. Cosa rovina l'idiglio è la spiegazione del perché questa ragazza riesce a stare fuori nelle ore invernali. Lei, come tante altre persone, sta fuori nelle ore invernali perché le ore invernali sono le uniche ore in cui lei è sana di mente. Per le persone non sane, per le persone non normali, per i matti, per gli psicopatici, per le persone anche pericolose per se stesse e per gli altri, come questa ragazza che lesiona se stessa, lesiona gli altri, lesiona sua madre nel numero, riescono a rinsavire nelle ore invernali. Quindi fondamentalmente Dilan Dog si innamora di una ragazza molto instabile, molto pericolosa, che nel momento in cui le ore invernali finiscono, vuole uccidere tranquillamente, senza troppi problemi, chiunque, tra cui anche Dilan Dog. Questa copertina, come tutte quelle ultimamente di Gigi Cavenago, ci mostra perfettamente quello che succederà nella storia, cioè Dilan che si innamora di questa ragazza, questa ragazza che anche lei ricambia il bacio, ma è pronta a coltellarlo, con una bottiglia rotta, come nella storia. Questo è indubbiamente uno dei tantissimi espedienti narrativi che Dilan Dog utilizza, il fumetto Dilan Dog, non il personaggio, che il fumetto Dilan Dog utilizza per farci riflettere su cosa è sano, su cosa è normale, su cosa è anormale, come faceva ai gran vecchi tempi. Per questo dico, è un numero bello come non lo vedevamo da tanto, perché ripercorre questa argomentazione senza cadere nel becero, senza cadere nella spiegazione troppo piatta, è molto... è sottile, c'è la storia d'amore, è molto carino. C'è un finale, che non vi dico comunque anche se siamo nella parte spoiler, che è anche quello, è abbastanza tragico, ma ci regala davvero dei momenti di riflessione, appunto su cosa è la normalità, ma anche sulle persone reali che nel mondo sono non sane di mente, che magari noi rifugiamo, che noi accantoniamo in un angolo, con cui non vogliamo avere a che fare, con cui molti di noi sono costretti ad avere a che fare, ci fanno riflettere su come sarebbero queste persone se non fossero in quella condizione, quindi ci fanno vedere una ragazza che priva della sua malattia mentale riesce ad amare, riesce ad amare Dilan Dog, riesce ad essere amata. Quindi ci mostra anche questo lato della pazzia, fondamentalmente, ed è uno spunto di riflessione tra i più interessanti che ho letto ultimamente in Dilan Dog. Vi anticipo già che il prossimo video che farò su un fumetto di Dilan Dog non sarà sulla serie regolare, ma sarà su una particolare storia del Color Fest, quindi così farò delle recensioni prese un po', qui e là, un po' come cazzo mi pare a me, perché è impossibile recensire tutti i numeri dal numero uno, chiaramente, non ne possego nemmeno tutti. Quindi io recensirò le storie che più mi aggradano, che più mi hanno dato qualcosa che io voglio comunicare a voi, ma se voi avete delle richieste, fatemele, scrivete qua sotto nei commenti una storia che vi è particolarmente piaciuta, se volete sapere la mia su quella storia, io farò la recensione su quella storia. Se non ho quel numero, ci metterò un po' di più, perché cercherò di recuperare il fumetto, e poi farò la recensione, ma la farò, la farò sicuramente. Quindi se avete delle richieste, ok, metterò i numeri che richiedete davanti a quelli che vorrò fare io. Con questo è tutto, vi ricordo sempre le cose che vi dico in ogni video, cioè di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, di commentare qui sotto, con qualunque cosa al di là di quello che ho detto prima, di condividere il video con tutte le persone che hanno un campanello che urla, e di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Vi ricordo sempre che se volete vedere i vostri canali streaming preferiti, senza pagare il prezzo intero, potete cliccare qui sotto sul link di Together Price, e pagare molto molto meno, meno un quarto o la metà quello che trovate per la vostra piattaforma streaming che normalmente usate, perché la condividete con altre persone che vi aiutano a pagare meno la vostra piattaforma di intrattenimento preferita. Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, voi continuate sempre ad amarvi 3000. Graucio, la pistola! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!